Sto facendo il purè di patate nella mia perfetta. Ho preparato già a pezzetti le patate, ho messo sale, pepe e un pochino di noce moscata. La pentola, vi ricordo, deve essere alta. Adesso vado a coprire con il latte. Ho messo il latte, adesso sta sul fornello medio, metto a fiamma alta fino all'uscita del vapore. Sta uscendo il vapore e adesso abbasso al minimo. Controllo il mio purè. Bellissimo. Continuo per 10 minuti a fiamma bassa. Mancano 2 minuti, sono 13 minuti che cuoce. Guardate che spettacolo questo purè. Ed ecco il mio purè. Lascio in autocottura per 2 minuti e poi... Ed ecco il mio bellissimo purè.